Dallo stadio della vittoria di Tolentino ben ritrovati i vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio è l'ultimo atto e la partita più attesa e importante dell'anno è la sfida tra rossoneri e viola che vi raccontiamo stasera benvenuti alla finale scudetto 2022 del campionato nazionale under 15 categoria A e B benvenuti a Milan Fiorentina Ancora Liberali con il sinistro, il tiro, la grande parata di Vannucchi, prima occasione a Milan Liberali con il sinistro da fuori area, ha scaldato i guantoni, al minuto 12 del portiere avversario Liberali sul fondo, può andare al cross con il sinistro, Camarda non ci arriva, palla che resta lì, Perini, il tiro e la palla respinta ancora da Vannucchi, Milan che ora è doppiamente andato vicino al gol con la seconda occasione del giro di due minuti Ancora Liberali, aree di rigore, Liberali, il sinistro respinto, poi il tiro con la grande parata di Vannucchi la terza grande parata, ancora su Perini, si sta superando il partito della Fiorentina quando scocca al minuto 17 Perini, prova lo scambio, ancora Liberali per Sala, il capitano, secondo pago di testa, la palla in gol, la palla in gol, vantaggio Milan vantaggio di Camarda, di testa, sul gran cross di capitano Sala, il Milan passa a fino a primo tempo, con un bel colpo di testa, stavolta Vannucchi, nulla potuto cross assist di Sala, colpo di testa di Camarda, stavolta Vannucchi, nulla può perde palla Ceriani, era di rigore, rischia il fallo, palla che resta lì, il tiro alto la più grande occasione della Fiorentina in questa partita la scrive a referto, la squadra viola al minuto 49 qui, bellissima la ripartenza Milan, con il lancio di Perini per il taglio di Camarda che può andare al tiro, la blocca Vannucchi, occasione dopo diversi minuti di assenza offensiva per il Milan, il Milan che la riconquista per un attimo, poi Ossola il fallo fa proseguire, Ciacci, e alla distanza la palla in mezzo per Pisani poi Cristogaro può andare al tiro da lì e sfiora il gol, la Fiorentina con un bel mancino di Lorenzo Cristogaro, numero 18, ancora un'occasione per la Fiorentina al minuto 65 cross, centrale, di testa, va lontano al bel, la porta è vuota, Milan che può andare con Camarda la porta è vuota, Camarda cerca di trovare un compagno per il passaggio, Camarda la tiene può darla via, porta è vuota, Liberali, centralmente tutti soli i compagni, Liberali può darla non c'è il portiere, si addormenta Liberali, poi ancora Perini, la partita è finita, il Milan è campione d'Italia Milan è campione d'Italia, Milan è campione d'Italia Under 15, è il triunfo della squadra di Bertuzzo bravi ragazzi, torniamo a tingere, di rosso nero lo spirito Under 15, eccolo qua, arriva Sala il Milan è campione d'Italia, Under 15 in serie A e B, e parte la festa rosso nera a Tolentino su queste belle immagini di festa arriva il mio saluto da parte di Luca Brivio, un abbraccio un saluto davvero e da campione d'Italia, sempre forza vecchio cuore rosso nero